Manipolare significa alterare, contraffare, falsificare, manomettere, ingannare. I manipolatori hanno spesso un tratto narcisistico. Sono tipicamente dei predatori online e riescono a gestire più rapporti a distanza creando falsi profili e collezionando relazioni multiple per sentirsi sostenuti e appoggiati. Il loro gioco è quello di abbandonare per primi per non essere lasciati. L'aspetto psicopatologico aumenta quando si aggiunge una marcata mania di grandezza che può sfociare nel delirio di onnipotenza accompagnato dal mascheramento dell'identità che è tipico della figura del Don Giovanni. Su questo versante della patologia troviamo tratti quali l'avventurosità, il gusto per ciò che è esagerato, la passione per il sensazionalismo, il brivido dell'imprevisto e una forte teatralità. Il manipolatore assume le vesti di un personaggio privo di scrupoli, astuto, che non prova sensi di colpa né vergogna per quello che fa. Un aspetto certamente seducente è l'apparente vitalità del suo desiderio, ovvero l'esuberanza dei suoi comportamenti che però non vanno nella direzione del dialogo empatico, non vanno verso un'apertura verso l'altro, ma sono finalizzati a se stessi. Infatti l'altro appare pauperizzato, appare strumentalizzato. Ecco allora che siamo in presenza di una smania di protagonismo che per la psicanalisi ha le sue origini in un complesso edipico irrisolto, che si accompagna ad un senso di inferiorità pervasivo e quindi un complesso di inferiorità. Bene, vi invito a visitare il mio canale YouTube dove troverete molti altri video come questi, più lungo, più sostivo.